ciao e benvenuto oggi iniziamo una nuova mini serie di video dedicati al workflow per la creazione di un asset da portare in un game engine quindi la creazione di un asset per un io vorrei far vedere semplicemente il mio modo di lavorare di affrontare alcune problematiche mi concentrerò non tanto sull'utilizzo degli strumenti quanto piuttosto sul ragionamento e suo appunto il workflow vero e proprio nella fattispecie utilizzeremo blender per creare un asset e a grandi linee la procedura sarà la seguente creeremo un asset high poly quindi dettagliato procederemo alla creazione dei materiali delle texture degli shader sul materiale high poly e lo vedremo in due modi differenti lo vedremo come fare nel modo più semplice possibile utilizzando substance painter adatto veramente a chiunque anche a chi di fatto non conosce substance painter e poi vedremo un altro approccio anche qui cercando di farlo più semplice e più veloce possibile utilizzando un addon di blender visti poi i due metodi per creare questa versione texturizzata andremo a scoprire cosa vuol dire fare il bake e di fatto creeremo un modello low poly sul quale faremo il bake delle texture dal modello high poly non vi preoccupate se in questo momento può sembrare poco chiaro cercheremo di vedere tutto passo passo una volta fatto questo il nostro asset sarà tendenzialmente pronto e si tratterà solo di vedere la sua resa all'interno di un game engine useremo probabilmente unreal engine per vedere il risultato finale bene questo è quanto per l'introduzione alla serie dal prossimo video iniziamo con la modellazione del modello high poly e giusto per dare qualche informazione in più vediamo intanto quello che andremo a realizzare sarà una cassa una cassa quindi la cosa più semplice e banale che mi è venuta in mente perché ripeto qui la parte importante è il flusso di lavoro e i ragionamenti la faremo volutamente super 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 low poly quindi letteralmente un cubo con sei facce facendo in modo di renderla più interessante possibile grazie appunto al bake delle texture immaginatevi quindi di stare lavorando per la creazione di un asset da usare in un gioco dove le performance sono importanti la leggerezza degli asset è fondamentale di conseguenza lavoreremo su un asset estremamente leggero e direi che per questa introduzione è tutto vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video sulla modellazione del modello high poly ciao